Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Incipit. Fabri Editori, traduzione Giuseppe Sardelli. Lo studio era pieno dell'intenso odore delle rose e quando il dolce vento d'estate serpeggiava fra gli alberi del giardino, per la porta aperta entrava la pesante fragranza dei lillà o il profumo più sottile dei rovinfiore. Dall'angolo del divano ricoperto di tappeti persiani, sul quale giaceva, fumando come era sua abitudine, innumerevoli sigarette, Lord Henry Wotton poteva appena afferrare il barlume giallomiele dei dolci fiori di un citiso, i cui tremuli rami pareva che non ce la facessero a sopportare il peso di una bellezza così fiammeggiante. E a tratti, fantastiche ombre di uccelli svolazzavano attraverso le lunghe tende di seta tussorina tirate davanti all'immensa finestra, producendo una specie di momentaneo effetto giapponese e facendogli pensare a quei palli dipittori di Tokyo dal viso di Giada, i quali, mediante un'arte che è per necessità immobile, cercano di suggerire il senso della rapidità e del movimento. L'implacabile mormorio delle api, che si aprivano la strada attraverso l'erba alta non falciata, o si aggiravano con monotona insistenza intorno ai polverosi tentacoli dorati dell'errabondo caprifoglio, pareva rendere quell'immobile calma ancora più opprimente. L'indistinto mughio di Londra era simile alla nota di bordone di un organo lontano. Al centro della stanza, fissato in verticale a un cavalletto, stava il ritratto, a grandezza naturale, di un giovane di straordinaria e singolare bellezza, e di fronte, a poca distanza, sedeva l'artista stesso, Basil Hallward, la cui improvvisa sparizione alcuni anni fa eccitò tanto, in quel tempo, l'opinione pubblica e diede origine a tante strane congetture. Mentre il pittore contemplava la forma leggiadra e piacente, da lui così abilmente rispecchiata nella sua arte, un sorriso di piacere gli attraversò il viso, e sembrò che vi si volesse fermare. Ma improvvisamente gli balzò in piedi, e chiudendo gli occhi si pose le dita sulle palpebre, quasi volesse imprigionare nel cervello qualche strano sogno da cui temeva di svegliarsi. «È il tuo più bello lavoro, Basil, la cosa più bella che tu abbia mai fatto», disse Lord Henry apaticamente. «Devi mandarla senz'altro alla Grosvenor l'anno prossimo. L'accademia è troppo grande e troppo volgare. Tutte le volte che ci vado, o c'è tanta gente che non riesco a vedere i quadri, il che è terribile, o tanti quadri che non riesco a vedere la gente, il che è peggio. La Grosvenor è proprio l'unico posto». «Non lo manderò in nessun posto, penso», rispose, scuotendo il capo all'indietro in quello strano modo che soleva far ridere di lui i suoi amici a Oxford. «No, non voglio mandarlo in nessun posto». Lord Henry alzò le sopracciglia e lo guardò stupito attraverso i sottili anelli azzurri di fumo che si levavano con eleganti volute dalla sua sigaretta, fortemente oppiata. «Non mandarlo in nessun posto? Mio caro, perché? Ne hai qualche motivo? Strani tipi, voi pittori, non indietreggiate dinanzi a nulla per farvi un nome. Appena ne avete uno, pare che vogliate gettarlo via. È sciocco da parte vostra perché c'è una sola cosa al mondo peggiore dell'aver fama, ed è il non averla. Un ritratto come questo ti metterebbe di gran lunga e di sopra di tutti i giovani d'Inghilterra e susciterebbe la gelosia dei vecchi, se i vecchi sono ancora capaci di qualche emozione». «So che riderai di me», rispose, «ma non posso proprio esporlo. Vi ho messo troppo di me dentro». Lord Henry si allungò sul divano e rise. «Sapevo che avresti riso, ma è vero, nonostante tutto». «Troppo di te in quel quadro, parola mia, Basil, non ti sapevo così vanitoso. E veramente non riesco a vedere nessuna somiglianza fra te, con la tua faccia ruvida e forte, i tuoi capelli neri come il carbone, e questo giovane adone, che sembra fatto d'avorio e petali di rose». «Perché, mio caro Basil, lui è un narciso e tu?» «Beh, naturalmente tu hai un'espressione intellettuale e tutto il resto. Ma la bellezza, la vera bellezza, finisce là dove comincia un'espressione intellettuale. L'intelletto è in se stesso qualcosa come un'alterazione in senso accrescitivo e distrugge l'armonia di qualunque volto». «Appena uno si mette a pensare, diventa tutto naso, o tutto fronte, o qualcosa di orribile. guarda gli uomini che hanno successo in una professione dotta, come sono perfettamente odiosi. Fuorché nella chiesa, naturalmente, ma nella chiesa non pensano. Un vescovo, all'età di 80 anni, continua a dire le stesse cose che gli fu ordinato di dire quando ne aveva 18, e come conseguenza naturale ha sempre un aspetto assolutamente delizioso. Quel tuo misterioso giovane amico, di cui non mi hai detto il nome, ma il cui ritratto mi affascina veramente, non pensa mai, ne sono più che sicuro. È una creatura senza cervello, bella, che dovrebbe essere sempre qui d'inverno, quando non abbiamo fiori da guardare, ed estate quando vogliamo un refrigerio per la nostra intelligenza. Non illuderti, Basil, non le somiglia affatto». «Non capisci, Harry», rispose l'artista. «È chiaro che non gli somiglio, lo so benissimo. A dir la verità, mi rincrescerebbe somigliargli. Non ci credi? Ti sto dicendo la verità. C'è una fatalità in ogni distinzione fisica e intellettuale. Quella sorta di fatalità che nella storia sembra seguire, come un cane, i passi incerti dei re. È meglio non essere diversi dai propri simili. I brutti e gli sciocchi hanno la sorte migliore in questo mondo. Possono sedersi a loro agio e assistere a bocca aperta al gioco. Se non conoscono il sapore della vittoria, almeno si sono risparmiati l'amarezza della sconfitta. Vivono come dovremmo vivere tutti, imperturbabili, indifferenti e senza affanni. Ne portano la rovina agli altri, ne la ricevono dalle mani altrui. Il tuo rango e la tua ricchezza, Harry. Il mio cervello, qualunque sia, la mia arte per quello che vale, la bellezza di Dorian Gray. Tutti dobbiamo soffrire per quello che gli dèi ci hanno dato. Soffrire terribilmente. Dorian Gray? Si chiama così? Domardò Lord Henry, attraversando lo studio verso Basil. Sì, si chiama così. Non avevo nessuna intenzione di dirtelo. Ma perché? Oh, non saprei spiegartelo. Quando una persona mi piace immensamente, non dico mai il suo nome a nessuno. Sarebbe come rinunciare a una parte di lei. Ho imparato ad amare la segretezza. Mi sembra l'unica cosa che possa renderci misteriosa o meravigliosa la vita moderna. La cosa più comune diventa deliziosa se solo la tieni nascosta. Quando lascio la città adesso non dico mai dove vado. Se lo facessi, perderei tutto il mio piacere. È un'abitudine sciocca, non lo nego, ma non so come sembra che dia un romantico senso di avventura alla vita. Suppongo che mi giudicherai spaventosamente sciocco, no? Niente affatto, rispose Lord Henry. Niente affatto, mio caro Basil. A quanto pare dimentichi che sono sposato e che l'unico piacere del matrimonio è che esso rende assolutamente necessaria una vita di sotterfugi per entrambe le parti. Io non so mai dove si trova mia moglie e mia moglie non sa mai quello che faccio. Quando ci incontriamo, ci incontriamo per caso. Quando pranziamo fuori o andiamo dal duca, ci raccontiamo le storie più assurde con la faccia più seria. In questo mia moglie è molto brava, sì molto più brava di me. Lei non si confonde mai sulle date e io sempre. Ma quando mi coglie in fallo non protesta. Qualche volta vorrei che lo facesse, invece si limita a prendermi in giro.